20 nuovi casi e un numero totale che supera i 100. La variante Delta è ormai dilagante in Puglia. Le ultime analisi dell'Istituto Zooprofilattico di Puglia e Basilicata hanno scoperto altri 20 casi positivi alla variante che si sommano ai 91 finora accertati nei giorni scorsi. A questi andrebbero aggiunti i campionamenti degli ultimi giorni, specie quelli derivanti da un focolaio scoppiato in un campeggio estivo a Manfredonia che ha colpito 34 ragazzi, gran parte dei quali provenienti da altre regioni. Ma a preoccupare maggiormente gli esperti è la percentuale di tamponi positivi alla variante indiana. I tamponi infatti ormai si dividono a metà. Una parte sono positivi alla variante inglese, cioè l'Alfa, l'altra parte alla Delta. Se la percentuale del 50% fosse confermata anche dalle successive analisi che avverranno questo fine settimana, significherebbe che la Delta corre davvero. Gli esperti si augurano che la vaccinazione e la bella stagione riescano a contenerla, anche se le notizie che arrivano da altri paesi non sono confortanti. Rispetto alla scorsa estate, in Puglia, quando i contagi erano tra 0 e 10 al giorno, quest'anno siamo oltre i 30-40 al giorno. Non confortano nemmeno gli assembramenti che si sono creati nelle varie piazze per festeggiare gli europei di calcio. L'assessore alla sanità regionale Pierluigi Lopalco resta però ottimista. Sarà molto difficile legare un aumento di contagi all'aumento della variante Delta, agli allentamenti della zona bianca o agli assembramenti di una sera. Sicuramente vedremo un aumento. Da cosa è scaturito? Conta poco. Ciò che dobbiamo monitorare è che questo aumento dei casi non sia veloce e che soprattutto non coinvolga popolazioni deboli. Intanto ci sono oltre 300 studenti italiani minorenni, partiti lo scorso 30 giugno per Dubai in una vacanza studio, in quarantena nei campus dopo che 11 di loro sono risultati positivi al Covid. Fra loro ci sono molti salentini. Gli studenti riferiscono che sarebbero dovuti rientrare mercoledì, ma che per loro è stato attivato il protocollo di sicurezza che comporta tampone molecolare e isolamento immediato. Il contagio sarebbe avvenuto durante la visita a un mercato.